Ciao a tutti, nel video di oggi, tutta la famiglia Ferragnez parte per trascorrere le vacanze nella loro casa in Sardegna. Qui, Leo prima trascorre il viaggio in aereo con Fedez, poi si diverte a giocare a basket. Vi lascio al video, buona visione. Hai appena vinto, amore. C'è livello 2, livello 2. Nooo. Però, amore, hai superato il primo livello, eh. Bravissimo. Non sei contento? Vabbè, va perso. Liega le gambe, piega le gambe e lancia partissimo. Forte! Forte! Non si vede neanche la fine del mare, talmente grande. Lavoro 1, la mano. Lavoro 1, la mano. Non è proprio il mio. Non è proprio il mio. E la chiude! E la chiude! Wuh! E la chiude! Musica 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 Grazie per la visione!